Hanno preso il via i lavori per le comunità alloggio e un gruppo appartamento destinati a soggetti maggiorenni in età compresa tra 18 e 64 anni, privi di validi riferimenti familiari in situazioni di handicap fisico, intellettivo o sensoriale. Questo è un progetto di grande lungimiranza, recuperare una struttura ferma e destinarla al territorio. Sì, questa è una pietra miliare per la nostra amministrazione, perché abbiamo ereditato una delle opere incompiute a livello nazionale, doveva essere un dopo di noi, ma siamo riusciti grazie alla sinergia con la regione Puglia, quindi con il vicepresidente della regione Cristian Casilli e con l'assessora Rosa Barone, a rimodulare come se diventasse effettivamente un dopo di noi, facendo una comunità alloggio e un gruppo appartamento. Il progetto iniziale, definanziato nel giugno del 2015, dopo pochi giorni dall'insegnamento dell'amministrazione di Tarantino, è stato fortemente voluto, ottenendo un finanziamento di 1.200.000 euro, che permetterà di completare l'opera ex dopo di noi. Consigliere, un importante finanziamento regionale per la comunità di Martano, lavoro di grande sinergia, di una grande rete politica e di comunità? Sì, un'importante giornata per la comunità di Martano, ma direi per tutto l'ambito. Otteniamo un duplice obiettivo, quello di recuperare un'opera incompiuta e quello di restituire al territorio la possibilità di avere dei gruppi alloggio per cittadini e cittadine dai 16 ai 64 anni che vivono in una situazione di disagio, di disabilità. Quindi oggi Martano può veramente festeggiare una giornata importante perché portiamo a termine un'opera importante per tutto l'ambito.